Isola dei famosi Replica Isola dei famosi Replica, la puntata dell11 marzo in streaming e tv Lunedì 11 marzo è andata in onda una nuova puntata dellIsola dei famosi 2019. Tutti i naufraghi sono stati sottoposti al giudizio del televoto Lampo. Il pubblico ha scelto di eliminare Ariadna Romero. La cubana ha avuto uno scontro con Soleil inoltre, non è riuscita a vincere il titolo di leader della settimana. Tra i momenti più interessanti figurano le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli. Chi non ha potuto seguire la puntata potrà recuperare attraverso la replica dellIsola dei famosi. Dove vedere la replica dellIsola dei famosi 2019 in tv e streaming online. Coloro che, per un motivo o per un altro, hanno perso la puntata del reality show trasmessa nel primetime di Canale 5, potranno rivederla in tv o in streaming. . Nel primo caso basterà attendere la messa in onda sulla 5 prevista per stasera 12 marzo alle ore 21.20 circa. . Nel secondo caso, invece si può rivivere la avventura attraverso Mediaset Play oppure su Infinity, piattaforma a pagamento. . È consigliato possedere una notevole velocità di connessione internet così da godere di una buona esperienza visiva. . Reso conto non ha puntata Isola dei famosi, eliminato e nominati on. . La non ha puntata dellIsola dei famosi 2019 si è aperta con le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli. . Le parole della conduttrice hanno colpito tutti, specialmente il cantante che si è commosso. . Lappuntamento è proseguito tra prove ricompense e sfida per il titolo di leader della settimana. . Soleil è riuscita a battere Ariadne e si è guadagnata limmunità. . La cubana, invece, è stata eliminata attraverso il televoto Lampo. . Joe Squillo e Jeremias Rodriguez sono intervenuti in studio. . Al cospetto di Alessia Marcuzzi, ciascuno di loro ha avuto modo di fare delle considerazioni in merito allavventura nel reality show. . Infine, la serata si è conclusa con le consuete nomination. . Al televoto sono finiti in due, Luca Vismara e Paolo Brosio. . Chi di loro lascerà le spiagge honduregne per sempre. . . . . . . . . Grazie per la visione!